Sta per alzarsi il sipario sulla 29esima edizione della rassegna Famiglia Teatro organizzato dalla compagnia La Botta e il Cilindro, l'unica vera stagione di teatro per ragazzi in Sardegna. Ritorna al teatro ferroviario di Sassari con gli spettacoli dedicati ai ragazzi di diverse fasce d'età dai 3 ai 14 anni. Si inizierà domenica 21 ottobre alle 18 con la compagnia Pilar Ternera di Livorno con lo spettacolo Il Re dei Pavoni. Il ricco cartellone presentato questa mattina nei locali dell'ex infermeria di San Pietro dal registro della Botta e il Cilindro Pierpaolo Conconi e dall'assessore alla cultura Manuela Palita proseguirà sino a fine marzo. In sei mesi saranno proposti 20 titoli, due nuove produzioni per 34 alzate di sipario complessive tra gli spettacoli portati in scena dai padroni di casa e quelli delle compagnie ospite le repliche. Per il Natale, per quest'anno abbiamo una proposta leggermente diversa rispetto a quelle degli anni passati mentre gli anni passati il cartellone di Natale era dedicato proprio ai giorni delle festività e quest'anno invece ai più piccoli, proprio per le famiglie, per i più piccoli, tutto il mese di dicembre sarà dedicato alle famiglie, Natale per le famiglie, con tre spettacoli. Uno è il Piccolo Principe, l'altro è il Lago dei Cigni e concludiamo con una vera e propria fiaba di Natale con tanto di albero di Natale in scena che lo schiaccianoce.